Ben tornati ragazzi sul canale di Geek Next Gen siamo qui con Rainbow Six Siege ecco qui nella partita online ragazzi ho fatto solo qualche simulazione offline però a livello realistico e ora volevo provare un attimo com'era l'online prossimamente arriveranno partite con alcuni miei amici sul canale e quindi giocherò con loro con le cucchie quindi ci sentirete a parlare io ora sto facendo questa partita giusto per provare il gioco online per capire come sono le dinamiche del gioco stesso e qui è importante ragazzi ovviamente in questo gioco avere la la squadra funzione qua che stanno sparando che proviamo ad andare da qua sopra vediamo se c'è qualcuno qui ecco la squadra di qua si è stato individuato da chi ecco dovrebbe stare tutti insieme eccoci qui l'assalto ragazzi abbiamo fatto breccia nel muro li butto una bella bomba 5 contro 3 i miei compagni hanno fatto saltare in aria un altro eccolo nuovo mi ha chi l'altro mi ha chi lato era lì dietro vediamo il replay guardate questo basta ecco guardate ce ne sono due e mi ha chi lato così 3 contro 2 ottima 2 contro 2 è round 1 vinto che ragazzi i miei compagni sono riusciti a brucire il round 1 ecco l'uccisione finale guardate qui grandissimi i miei compagni di squadra ok eccoci giunti al secondo round che sotto siamo noi a dover difendere quindi ecco qua avete due compagni come stiamo mettendo le barricate io posizionerei questo qui ecco qua posizioniamo questo qui per nasconderci qui dietro puoi sparare nel caso entrino da qui e poi vediamo se c'è altro non è la barricata no siamo a 10 secondi 10 secondi anche qua in posizione qua ragazzi posizionare con passi da cinesi e metti in azione mi sono preso tutto qua sotto per tirare chiunque passerà da questa parte hanno fatto saltare in aria qualcosa c'è una bomba attenzione bomba 20 bastardi 5 contro 4 5 contro 3 guardate che bastardi da sopra 5 contro 2 sono in 2 vediamo da qua attenzione da qua ragazzi che io mi nascondo ancora qui non ci ho trovato l'obiettivo 4 contro 2 non puoi abbassarti bastardo muore 6 4 contro 1 un cis un altro un altro soltanto di loro è rimasto in vita quindi che bisogna andare da qua e cercare di beccare dov'è il bastardo e abbiamo vinto anche il round 2 c'è stata anche la mia prima kill di questo gioco era qui nasco eccolo là grande mio compagno di squadra ok ragazzi eccoci qui al terzo round è già il match point se vinciamo questo vinciamo tutti sono riuscito a prendere il mio operatore termite l'unico che ho sblocato fino ad ora della svuota e quindi ora andrò ad attaccare con termite allora ho già visto tutto l'ho già visto abbiamo individuato anche i nemici eccoci qui guardate che figlio usiamo il rampino dobbiamo andare a prenderci questa partita e vincerla ok 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 vediamo se la qui becchiamo qualcuno subito per ucciderlo sono aggressive cazzuti non c'è nessuno ok proviamo a scappare da qua qui su questo attento ci sono due possibili entrate una è quella l'altra è questa ma la mia paura è che ci stiano aspettando qua non vedo nessuno infatti sicuramente ci stanno aspettando al varco ok proviamo a seguire i nostri compagni ecco qua c'è uno è stato eliminato dei miei compagni 3 contro 5 2 dei miei compagni sono stati eliminati dobbiamo fare la massima attenzione 3 4 4 4 4 4 5 6 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 9 10 9 9 9 9 10 9 10 9 10 10 9 10 10 10 10 ma ero da solo non potevo fare molto di più ok ragazzi eccoci giunti nel quarto round siamo due a uno ora siamo noi a dover difendere se magari ti togli metto la barricata qua mettiamo una barricata ok andiamo qui adesso sta sbarando la porta che vengono lasciato fuori c'è un'altra barricata qui ok dovremmo fai una bella sorpresina non arriviamo state dall'alto come ho fatto prima voi non sono cinque secondi io direi fase nazionale ok 3 contro 1 2 contro 1 e abbiamo vinto il quarto round ragazzi io non ho trovato nessuno ho trovato tattiche alternative per cercare ma non ho trovato nessuno qui che ero vicinissimo al punto e quale andare ecco qua ok che la squadra blu ha vinto vuol dire che non ho fatto molto in questa prima partita ragazzi però vi ripeto sto veramente all'inizio quindi sto cercando ancora di abituarmi ok ragazzi io spero che l'episodio vi sia piaciuto se è così commentate e condividete lasciate like perché vorrei continuare a portarvi altri episodi e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale qui da un giorno di 83 è tutto ci vediamo al prossimo video bella ciao 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 ciao